Grazie nuovamente a Linea Pelle per averci dato questa straordinaria opportunità. Sono felice e onorato di essere stato invitato dal comitato di Linea Pelle Fashion Edition. Oggi sono ospite di Linea Pelle Designers Edition, sono molto contento, spero ci sarà una lunga collaborazione in futuro con loro. È stato un invito di Linea Pelle a sperimentare una via personale. Questa è la prima volta che sto a presentare una collezione Spring Summer con Linea Pelle. Grazie al supporto di Linea Pelle in quanto abbiamo invece deciso di lavorare anche pelle sempre sostenibile chiaramente ma viene tinta invece dalle congerie secondo le nostre palette colori. Il rapporto tra me e Linea Pelle ormai è un rapporto consolidato. Non solo mi ha insegnato e mi ha fatto crescere con quello che è l'utilizzo della pelle ma mi ha dato modo di spiegare ai miei colleghi che sono presenti anche qui sempre più numerosi edizione dove edizione qual è la bellezza e l'utilizzo di questo materiale. Grazie.